L'Animil festeggia quest'anno la 63esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Si festeggerà domani, nella giornata di domani, domenica 13 ottobre, quest'anno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Noi siamo nati nel 1933, poi durante il fascismo, il fascismo abolì l'Animil, nel 1943 ricominciamo il nostro lavoro su tutto il territorio. Siamo un'associazione che siamo 70 anni su questo territorio e difendiamo la categoria degli infortunati e degli invaliti del lavoro e gli orfani di guerra. La nostra associazione nasce con lo scopo di Onulus, di salvaguardare gli infortunati sul lavoro e le morti bianche che ogni anno crescono. Quest'anno ringraziamo il nostro Signore che le morti bianche sono di meno, sono diminuite. Nel nostro territorio terramano da 10 siamo tornati a 7, ma è sempre grande l'importo. Gli infortunati sul lavoro sono quasi 8.000-9.000 infortuni sul lavoro, parliamo della provincia di Teramo. Siamo sull'8,9% di infortuni di meno. Noi con l'Animil insieme, in sinergia, stiamo facendo dei corsi di formazione per far sì che questi infortuni sul lavoro l'Animil scombaia. Perché se scombaia l'Animil scombaia gli infortunati sul lavoro. Noi non vorremmo che la gente la mattina si alza, vada a lavorare e torni a casa. Io dico che bisogna fare di più. Io ho detto all'Inail che noi insieme dobbiamo fare dei corsi perché adesso ci stanno aumentando gli infortunati agricoli. Noi chiediamo ai politici, al governo di far sì che fare dei corsi di preparazione, far sì che questi infortuni diminuiscono perché chi paga siamo sempre noi, la gente. Il programma per la giornata di domani? Domani il programma è alle 9, andremo tutti a Piazza San Francesco, faremo un corteo fino sotto al Duomo, poi al Duomo celebreremo la giornata con politici, il governatore della regione e tutti i politici, anche gente del governo e tutti i sindaci della provincia di Teramo. Poi vedremo la messa alle 10 e mezza il vescovo Monsignor Seccia e poi cominceremo la disposizione della corona dall'ora ai caduti sul lavoro e poi ricorderemo l'anime, la ricorderemo insieme con l'Inail e quello che stiamo facendo è quello che vogliamo fare nel futuro, far sì che gli infortuni sul lavoro diminuiscono.